ciao a tutti oggi prepareremo la crema di nocciole tipo nutella il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa ingredienti sono nocciole tostate cioccolato al latte cioccolato fondente cioccolato bianco latte intero latte condensato zucchero e olio di semi di arachidi andiamo via alla ricetta siamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 finiamo sul fondo del boccale lo zucchero mettiamo le nocciole chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo dritare per 30 secondi a velocità da 6 aumentando sino a 10 finiamo sul fondo chiudiamo il coperchio facciamo dritare per due minuti a velocità 6 a questo punto riuniamo sul fondo chiudiamo di nuovo col coperchio e il misurino e azioniamo per due minuti a velocità 6 riuniamo sul fondo i nocciole già hanno preso la consistenza di una crema a questo punto aggiungiamo il cioccolato a pezzi iniziamo con quello fondente poi il cioccolato al latte e il cioccolato bianco chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo dritare per 50 secondi a velocità 8 a questo punto riuniamo di nuovo sul fondo sempre con l'aiuto della spatola e versiamo il latte il latte condensato e l'olio di semi di arachidi chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo cuocere per 7 minuti 50 gradi velocità 5 la crema di nocciola è quasi pronta a questo punto la facciamo omogenizzare azionando il bimbi per un minuto a velocità 10 la crema di nocciole tipo nutella è pronta trasferiamola in contenitori con chiusura ermetica crema di nocciola tipo nutella si conserva in frigo per un mese grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti